buongiorno bambine buongiorno bambini buongiorno grandi ai piccini buongiorno proprio a tutti a quelli brelli e a quelli brutti tra allora oggi sarà con noi il nostro amichetto ziotoni ciao bambini ciao ci so pure io è bello ritrovarvi sì ok bene allora oggi leggeremo una delle nostre storie del nostro gianni rodari che si chiama a giocare col bastone attenzione perché è una storia molto importante e quindi aprite bene le orecchie le orecchie l'hai lavate le orecchie stai zitto un attimo per favore le orecchie accendete i cervelletti grazie bene pronti pronti un giorno quando quando senti noi dobbiamo raccontare questa storia finiscila per favore va bene va bene mamma zitto un giorno il piccolo claudio giocava sotto il portone e sulla strada passò un bel vecchio con gli occhiali d'oro che so io sì è lui il vecchio è lui bello gli occhiali voglio gli occhiali damme l'occhiali d'oro damme l'occhiali dopo continuiamo la storia per favore quindi c'era questo anziano che camminava curvo appoggiandosi a un bastone e proprio davanti al portone il bastone tra gli cadde claudio fu pronto a raccoglierlo e lo porse al vecchio che sorrise e disse ah beh grazie ma non mi serve posso da camminare benissimo pure senza se te piace lo puoi pure dattene e senza aspettare risposta si allontanò e pareva meno curvo di prima claudio rimase lì col bastone fra le mani e non sapeva che cosa farne era un comune bastone di legno e col manico ricurvo e con il puntale di ferro e con niente altro di speciale da notare claudio picchiò due o tre volte il puntale per terra tum 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 poi quasi senza pensarci inforcò il bastone ed ecco che non era più un bastone ma un cavallo un meraviglioso puledro nero con una stella bianca in fronte che si slanciò al galoppo intorno al cortile ritrendo e facendo strizzare scintille dai ciottoli e quando claudio meravigliate un po spaventato riuscì a rimettere il piede a terra il bastone era di nuovo un bastone e non aveva zoccoli ma un semplice puntale arrugginito né criniera ma il solito manico ricurvo è bello è bello voglio riprovare decise claudio quando ebbe appena ripreso fiato inforcò di nuovo il bastone e stavolta esso non fu un cavallo ma un solenne cammello a due gobbe e il cortile era un immenso deserto da attraversare ma claudio non aveva paura e scrutava in lontananza per vedere comparire l'oasi è certamente un bastone fatato disse claudio inforcandolo per la terza volta adesso era un'automobile da corsa brum 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 tutta rossa col numero scritto in bianco sul cofano oh figo è che bella questa zitto e il cortile una pista rombante e claudio arrivava sempre primo al traguardo campioni del mondo campioni del mondo e poi il bastone fu un motoscafo e il cortile un lago dalle acque calve e verdi e poi una stranave che fendeva lo spazio lasciandosi indietro una scia di stelle ogni volta che claudio rimetteva il piede a terra il bastone riprendeva il suo pacifico aspetto il manico lucido e il vecchio puntale bello mi piace non è non è finita non è finita fra un po c'è se te il pomeriggio passò veloce fra quei giochi verso sera claudio si riaffacciò per caso sulla strada ed ecco di ritorno il vecchio dagli occhiali d'oro ma voglio gli occhiali dopo te li do finiamo la storia per favore fai il vecchio fai fallo per me tra vado bene so bello sei bellissimo allora claudio lo osservò con curiosità ma non poteva vedere in lui niente di speciale era un vecchio signore qualunque ma che io so signore qualunque era un vecchio signore qualunque un po affaticato dalla passeggiata te piace il bastone gli domandò sorridendo claudio credette che lo rivolesse indietro e glielo tese arrossendo ma il vecchio fece decennio di no tienilo tienilo pure disse ma che me ne faccio ormai di un bastone tu c'è poi da volare io potrei soltanto da appoggiarmi ma appoggerò al muro e sarà lo stesso e se ne andò sorridendo e se ne andò sorridendo perché non c'è più persona felice al mondo di un vecchio che può regalare qualcosa a un bambino allora bambine e bambine abbiamo indovinato cosa ci insegna questa storia e anche voi grandi questa storia ci insegna il potere della fantasia per la quale tutto quanto è possibile noi crescendo ogni tanto ci preoccupiamo e le preoccupazioni bloccano il potere della fantasia la fantasia infatti è quella cosa così straordinaria che i potenti non vogliono mai che si venga sviluppata e già perché la fantasia ti permette sempre di trovare le gioie e le possibilità della vita che non avevi mai presa in considerazione diceva infatti una persona parecchio 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 famosa che bisognava tornare come i bambini con la loro capacità di fantasia allora bambini mi raccomando mandate il disegno su questa storia a melagioco.badia.gmail.com così potremmo pubblicare i vostri disegni sulla pagina face book dell'istituto comprensivo martiri di civitella adesso vi saluto e voglio venire pure io la saluto ciao bambini ciao ciao belli ciao cari ciao cuore ciao amore dammi un bacino bacino dammi un bacino dammi un bacino 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 dammi un bacino a bambini da silvia martini dammi un bacino dell'isola degli awawa allora vi saluto awawa dammi un bacino ma vediamo dai uno solo dai ciao ciao ciao